Ciao ragazze, bentornate sul canale, bentornate in un nuovo video, video che non sapevo se pubblicare o no vabbè adesso che lo storico è strano ormai lo pubblicherò però è il video appunto sui miei must have, i prodotti che ho utilizzato di più o che ho amato di più nella stagione appena conclusa, quindi nell'inverno che speriamo sia concluso perché ad esempio oggi è una bellissima giornata in quel di Bologna ma come vedrete anche dal fatto che cambia il colore del video tira un sacco di vento, quindi le persone fanno quello che gli pare comunque avevo già girato un video del genere l'anno scorso forse anche addirittura l'anno prima, comunque vi linko quello dell'anno scorso che è quello più recente diciamo soltanto che quest'anno mi rendo conto di essere arrivata un po' in ritardo cioè un po' tanto, sono arrivata in ritardo ragazzi un po' con tutti i video perché purtroppo non ho il tempo materiale proprio per stare dietro al canale purtroppo mi dispiace perché comunque è una mia passione mi rende felice registrare video eccetera ma manca proprio il tempo spero comunque di tornare un pochino più attiva su youtube tra l'altro ho indietro un sacco di video che devo commentare di altre ragazze eccetera insomma che mi devo vedere tutto ma sono indietro, indietro, indietro comunque spero che apprezzate lo stesso questo tipo di video anche perché insomma si può tranquillamente e sono prodotti che vi mostrerò che potete tranquillamente utilizzare anche nelle altre stagioni iniziamo per quanto riguarda il corpo io nella stagione fredda ma comunque la sto ancora usando molti prodotti che vedrete anzi quasi tutti non sono finiti ma li sto ancora usando amo le mousse doccia o comunque i prodotti cremosi, coccolosi qualcosa che già da sotto la doccia mi vadano a dare non dico proprio il primo step di idratazione ma che non secchino la pelle che siano belli avvolgenti, belli coccolosi perché la doccia in inverno veramente è sacra la doccia calda dopo una giornata di lavoro o di studio o quello che è e quindi quest'anno abbiamo scoperto queste qua di Balea questa qua è la Lovely Moment con gelsomino e freesia buonissima buonissimo profumo erogano proprio il prodotto come una schiuma da barba deterge molto bene in maniera molto delicata ed è veramente una coccola e ne abbiamo già terminata un'altra delle mousse di Balea ve ne ho parlato nei top del 2018 e ne abbiamo un'altra nelle scorte ma questo appena capita al DM ne prendiamo altre due tre sempre per l'idratazione del corpo di sicuro non possono mancare in inverno i burri per il corpo io li utilizzo solo in inverno perché in estate vado di ho direttamente l'olio sotto la doccia un pochino d'olio oppure spesso idrato il corpo con il doposole oppure con fluidi molto leggeri e insomma non con il burro a corpo però in inverno mi piace molto anche questo qui è una coccola poi comunque la pelle in inverno anche utilizzando gli indumenti sintetici eccetera ha bisogno di sintetici ha bisogno di quella coccola in più ho praticamente terminato c'è un'applicazione scarsa proprio questo qua di La Vera ho utilizzato anche quello della Sien ne ho utilizzati diversi infatti penso vi farò un video lo dico piano perché io in tutti i video vi dico vi farò un video di questo vi farò un video di quell'altro poi non mi raccapezzo come si dice in romagna da nessuna parte quindi speriamo vi vorrei fare un video sui burri corpo a confronto questo qua era una limited edition proprio invernale infatti winter blute contiene estratto di mandarino e di canditi più che essere un burro oleoso è una crema corpo molto densa idrata compatta anche la pelle io vedo proprio l'effetto compattante dei burri corpo non rassodante o anticellulite è proprio compattante lascia la pelle veramente tanto morbida e nutrita fino al giorno dopo contiene burro di karité e estratto di zucchero di fiori di cocco cioè di tutto olio d'oliva olio di cacao estratto di melisse estratto di arangia arangia e acqua di rosa da mascena e tocco ferolo insomma ci sono diversi estratti buonissimo se lo doveste trovare costa sui 5 euro come anche molto molto buona questa però la sto ancora utilizzando anche perché non ha una consistenza prettamente invernale ecco questa qua è una consistenza che potrei utilizzare tranquillamente anche in estate però ha una profumazione invernale sto parlando della crema corpo energizzante zenzero e cannella della biolis nature questa qua ve la inserisco in questo video appunto perché ha questo profumo di cannella leggermente piccantino dato dallo zenzero che secondo me grida proprio inverno freddo natale cioè stiamo parlando di natale ad aprile me ne rendo conto ragazze però voi vi dovete immaginare che questo video sia proiettato tipo a gennaio dicembre così e vabbè al di là di tutto se non fate caso alle fragranze allora questa è particolarmente calda e avvolgente ve lo dico però se non fate caso a questo è un'ottima crema per questo periodo perché è fluida ne basta veramente poca perché altrimenti fa scia bianca è fluida e vedete si assorbe comunque abbastanza velocemente idrata perché comunque idrata però se avete una pelle molto molto secca sicuramente orientatevi su un burro corpo o su una crema comunque di un altro tipo mi piace perché a differenza delle altre creme di biolis che avevo provato che facevano una scia bianca infinita questa qua utilizzando la giusta quantità si assorbe velocemente tra l'altro ne serve veramente pochissima infatti sono 250 ml io la uso quasi tutti i giorni e sono cioè sarò a metà forse ma veramente si ammortizza nel lungo tempo ma non che costi tanto perché costa tipo 3 euro è spesso un'offerta 3 euro e 50 2 euro e 99 giù di lì e buona 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 mi sta dando grandi soddisfazioni anche proprio per questo profumo che comunque sulla pelle rimane delicato ecco non vi aspettate chissà che poi ovviamente in inverno bisogna prendersi maggiormente cura delle nostre mani e io ho utilizzato in questo inverno la sto ancora utilizzando la crema mani della Omia questa qua all'olio di mandorla sono 75 ml è indicata per pelli delicate ed è emoliente idratante profumo di mandorla e una buona crema mani ha una consistenza che si assorbe velocemente però è stratificabile cioè se volete dare una botta di idratazione puoi tornare a fare tutte le vostre faccende ne mettete poche ok ma se ne mettete di più vi fa anche una sorta di impacco io purtroppo non sono molto brava con le creme mani perché non avendo cioè fondamentalmente bisogno di idratare tanto le mani tendo proprio a dimenticarmela non è uno step proprio fisso della mia routine corpo sbagliato sbagliato ma il peggio sono le creme per i piedi ecco dei piedi io mi ricordo solo in estate purtroppo è così e quindi vi dicevo che io questa qua la utilizzo adesso l'ho messa sul no sul comodino vedete lì che c'è tipo quell'inserto nel mobile ecco la metto lì così prima di andare a dormire me la passo così sulle mani e però altrimenti io mi dimentico proprio dell'esistenza delle creme mani per dirvi sì ne ho una nella borsa dell'università ma è lì tipo da decenni però questa qua è un'ottima crema mani mi capita anche di utilizzarla dopo le pulizie certo se avete le mani spaccate secondo me non è abbastanza però se avete delle mani normali o leggermente secche può andare e contiene appunto oltre all'olio di mandorle dolce anche l'olio di cocco e altri estratti passiamo ora finalmente al viso allora per quanto riguarda il viso detersione sicuramente un mio fedele compagno questo è finito dell'inverno è stato il latte detergente alla macadamia carité di fitocoso ovviamente come negarlo per pelle secca e delicata questo qua veramente buono profumazione che è volato tutto fuori ma scusate perché vedete è ancora un pochino sporco però ottima profumazione abbastanza delicata è un latte detergente che vi ho detto oleoso quindi indicato proprio per pelli veramente secche veramente aride ma utilizzato al mattino mi aiutava veramente tanto a dare proprio il primo step di idratazione scusate ma mi prudo il naso non mi soffermo perché ve ne ho parlato nelle skin care routine ovunque invece un tonico che mi sta piacendo tanto e questo qua lo porterò avanti anche sicuramente fino all'estate perché lo uso raramente e poi lo vedo molto adatto anche al periodo estivo comunque sto parlando del tonico di kills cioè come vedete è veramente poco utilizzato però mi sono fatta un'idea infatti ve ne ho anche già parlato il tonico alla calendula alcol free per pelli da normali a grasse sì da normali a grasse sì però secondo me è adatto anche alle pelli secche cioè secondo me questo tonico è adatto a tutti i tipi di pelle ve ne ho già parlato non è un prodotto bio però è un prodotto veramente efficace a me ha colpito ovviamente per la presenza dei fiori di calendula proprio così in sospensione nel tonico vedete che ci sono tutti i fiori di calendula quindi è proprio un gioiellino diciamo anche perché ha un suo costo parecchio alto per essere un tonico ovviamente non vi fa i miracoli cioè ragazze parliamo comunque di un tonico non fanno i miracoli le creme i sieri figuratevi se fa il miracolo un tonico però è veramente un prodotto che mi piace utilizzare quando vedo la mia pelle un pochino o impura infatti è adatto anche alle pelli grasse oppure un pochettino asfittica un po' sofferente come dico io spesso la vedo un po' magari spenta un po' che tende ad arrossarsi la mia pelle difficilmente si arrossa quindi se vedo che si arrossa vuol dire che non sta benissimo oppure appunto irritata eccetera io vado con lui perché comunque la calendula oltre ad avere delle proprietà disarrossanti antinfiammatorie lenitive eccetera anche delle proprietà antisettiche quindi va bene anche sulla pelle grassa quando vedo la mia pelle che non è nel suo stato di comfort vuoi perché magari sono stata truccata molto tutto il giorno quindi ha patito oppure perché ho fatto una maschera magari un po' troppo forte sbalzi di temperatura qualsiasi cosa che può accadere in inverno ma benissimo anche in estate infatti questo qua ve ne riparlerò in estate penso perché insomma un tonico alla calendula anche con il sole mi lascia insomma ben presagire però ecco quando vedo la mia pelle che non è al top della sua forma utilizzo lui innanzitutto sfiamma proprio immediatamente una cosa che si nota subito va immediatamente a lenire la zona appunto che da prurito è irritata o quello che è liscia molto la pelle la lascia anche leggermente più luminosa io lo utilizzo proprio come un tonico curativo quindi solo quando ne ho bisogno per cui non vi posso dire sul lungo termine che effetti ha perché mi capita di usarlo magari due volte a settimana per dirvi e per cui non mi pronuncio più di tanto ne basta pochissimo lo uso sul dischetto e insomma ragazzi questo qua mi è stato regalato ma io quando l'ho visto in negozio con Steve Fury c'è dentro bellissimo anche se vi dico costa tanto per non essere un prodotto bio ecco è un acquisto importante e non è che vi cambia proprio l'esistenza però io che ce l'ho sono contenta di utilizzarlo quindi sì ve lo consiglio poi come siero invece vediamo portiamo i prodotti qua ok come siero quello che mi ha dato più soddisfazione che ho trovato diciamo più utile voglio consigliarvi per la stagione invernale è stato il siero gel nonostante sia in gel che non è una consistenza magari molto da inverno ma più da estate però siero gel al viso lenitivo alfisalis e fiori di arancio di Delidea anche di questo vi ho già parlato ma di tutti i prodotti che vedrete mi avete sentito parlare almeno una volta sì di tutti questo qua è un trattamento un siero appunto indicato per le pelli sensibili che tendono ad arrossarsi infatti i fiori d'arancio e lafisalis sono ottimi per le pelli sensibili con cuperose eccetera dice che è idratante allenitivo per contrastare gli arrossamenti la fragilità capillare e la sensibilità tutti problemi diciamo patologie quello che è problemi che possono insorgere comunque con l'inverno con il freddo ma anche in questo periodo di sbalzo termico ad esempio sono uscita ieri che saranno stati 30 gradi ragazze cioè 30 no ovviamente però veramente sono uscita senza giacchetto la sera ha iniziato a tirare un gran vento e è diminuita la temperatura oggi sono 12 gradi quindi la pelle comunque ne è restente infatti di questo qua ne ho ancora un po' sono contenta perché si sfrutta moltissimo anche in primavera quindi appunto arrossamenti fragilità capillare stress dato appunto dagli sbalzi di temperatura questo qua vi può aiutare molto inoltre c'è scritto che dove è dove è ecco è indicato anche ha una protezione ha un'azione protettiva sul microcircolo e sul collagene ed è ideale come trattamento d'urto quindi che ne so rientro a casa la sera sono arrossata a causa degli sbalzi termici mi strucco metto lui e immediatamente la mia pelle torna del suo colore normale per cui è un trattamento sia sul lungo termine utilizzato magari tutti i giorni e io vi dico lo alterno a un altro generalmente lo uso la sera alternato a un altro siero perché al mattino uso quelli anti inquinamento e appunto si può usare sia sul lungo termine per aumentare magari la resistenza della pelle agli sbalzi termici eccetera sia sul momento se tipo ad esempio fate una maschera siete tutte rosse lo mettete aiuta molto è un prodotto veramente jolly dai carino da avere in casa buono poi costa poco poi poi questo qua è una crema che in realtà vi ho messo nel reparto viso ma potreste usarla anche sul corpo è una mini taglia mi era stata data perché sapete che io faccio la hostess avevo fatto la promozione di questi prodotti qua della fisio gel e vabbè io generalmente non vi porto sul canale i prodotti di cui faccio la promozione perché cioè promozione è finita a me non è che frega tanto se cioè io vi porto le cose che secondo me sono valide vi possono interessare questa qui è una lozione corpo ma anche viso lenitiva si chiama sollevo calmante per pelle secca irritata e reattiva la trovate nella confezione da 200 ml ed è una cremina leggera di rapido assorbimento i prodotti fisio gel si trovano in alcuni tigotà molto forniti e nelle farmacie sono prodotti non bio ma con un ottimo inci senza siliconi parabeni eccetera si assorbe subito è in odore perché è proprio pensata per le pelli super reattive super sensibili e sappiamo che spesso questi tipi di pelle reagiscono male anche al profumo quindi non è presente e questa qua è molto utile in caso di dermatite irritazioni anche date da sfregamento ad esempio nel pannolino per i bambini oppure per il freddo per proteggere ma anche per lenire e veramente sugli arrossamenti è un prodotto che si può utilizzare un po' in tutto il corpo e nelle zone comunque che sono più reattive tendono ad arrossarsi e mi è capitato di utilizzarla diverse volte l'avevo portata anche quando sono stata a Capodanno in Slovenia perché comunque faceva freddo e mi aiutava molto buona quindi se vi capita il prezzo mi pare fosse sui 20 euro per la confezione grande però poi vi mostro questa maschera che tendo a utilizzare moltissimo in inverno però ve ne ho parlato in un video apposta quindi ve la faccio vedere così è di Kiehl's è una sleeping mask ultra facial overnight hydrating mask per tutti i tipi di pelle è una maschera in gel anche questa qua non ha un buon inci però sapete che io su alcuni prodotti sono troppo curiosa quindi provo anche qualcosa che non ha un inci proprio perfetto però deve averli gli attivi e questa infatti li ha però c'ha un siliconazzo buttato lì vabbè è una maschera molto idratante molto restitutiva va ad adatare bene la pelle in profondità e la utilizzo quando vedo la pelle molto secca in inverno o nei cambi di stagione quindi questo video è utile perché tutti questi prodotti vanno bene sia in inverno ma anche tanto nel cambio di stagione in cui siamo pienamente in questo momento e questa qua mi piace utilizzarla proprio anche come trattamento tipo di tre giorni ad esempio per tre sere la notte metto solamente lei per cercare di riportare la pelle in equilibrio mi piace non esagerate con le quantità perché è molto ricca e quindi può far uscire qualche brufolino se ne mettete tanto usatela proprio come una crema e io ho la confezione da 28 ml che ho utilizzata così mi sta durando un sacco perché vedete sono tipo a metà e no non si vede niente vabbè e questa qua l'avevo pagata tipo 13 euro buona altra cosa che non possono mancare ma questi non possono mancare mai veramente però diciamo che in estate faccio più fatica a utilizzarli sul viso vi dico la verità mentre in inverno sono proprio una coccola gli oli per il viso vi ho portato qui in rappresentanza quelli di cadì che sono tra i miei preferiti però vi farò un video apposta io ho quello anti-age quello alla rosa e quello al white lily questi qua li trovate un po' ovunque sicuramente su ecco verde le mintaglie a 2,99 euro se le usate sul corpo ovviamente un'applicazione se ne vanno ma se le usate sul viso vi durano tantissimo hanno un costo veramente irrisorio buonissimi buonissimi gli oli viso proprio rigenerano tantissimo la pelle aiutano molto con il freddo con i cambi di stagione eccetera e quelli lì hanno anche degli estratti ayurvedici delle erbe quindi lavorano anche proprio a livello aromaterapeutico quindi anche sull'umore eccetera io questa cosa non posso dirvi che l'ho riscontrata perché mentirei però quando li utilizzo mi piace molto il rituale di applicazione però non vi so dire se uno mi calma uno mi rilassa ecco questo non ve lo so dire poi vi mostro gli ultimi 4 prodotti che li ho messi insieme perché sono tutti di un unico brand stiamo parlando di Anthos e sono prodotti molto interessanti soprattutto per la stagione fredda una è la maschera nutriente anche di questa vi ho già parlato sono 100 ml costa 6 euro circa è una classica maschera nutriente bella corposa vedete contiene tanti oli tanti burri però è una maschera delicata secondo me che va bene anche a pelli sensibili non vi aspettate ai miracoli ha un inci molto semplice se vi devo dire le maschere quelle che sono uscite nuove quella l'argilla gialla l'argilla rossa hanno dei risultati più evidenti ecco vi dico la verità però se avete una pelle arida secca molto provata e volete questi capelli e volete solamente dargli una botta di nutrimento e di idratazione io questa qua ve la consiglio oltre al fatto che dura tantissimo ragazzi non so quante volte l'ho fatta l'ha fatta anche il mio ragazzo sono praticamente neanche a metà profumazione buonissima come consistenza assomiglia molto al latte detergente della stessa marca insomma sempre di Anthos poi Anthos fa anche dei prodotti questo qua ve l'avevo già mostrato che secondo me sono fantastici in inverno e sono le candele da massaggio ecco questa qua questo è un prodotto che io accantono totalmente in estate perché insomma la candela da massaggio mi viene caldo a me solamente a pensarci io ho la versione balsamica ovvio con oli essenziali di pino mugo menta piperita canfora cinese strati di eucalipto e dechinacea buonissima ragazzi questa se avete il raffreddore vi mettete così e passa tutto però davvero è veramente forte come fragranza io la utilizzo cioè a vari utilizzi si può utilizzare o semplicemente la lasciate accesa come candela profumata e veramente anche se avete il raffreddore oppure magari avete dei bimbi con il raffreddore glielo accendete in camera e loro così la possono respirare oppure insomma nell'ambiente dove sono ma anche voi adulti ecco dico i bambini perché essendo una cosa naturale magari prima di provare i medicinali ecco si può provare questa io parlo di quella balsamica perché esistono tante varianti quindi si può usare come classica candela profumata altrimenti si può usare da spenta così prelevate il prodotto vedete che si preleva tranquillamente e lo utilizzate come un burro corpo e in questo caso questo qua è ha un profumo veramente forte quindi io proprio come burro corpo non l'ho mai utilizzato mi è capitato di metterlo ai lati del naso quando avevo un raffreddore oppure di metterlo qui sul petto per tipo respirare meglio quando sempre raffreddata per andare a dormire perché comunque ha molti estratti idratanti tipo il burro di carité il burro di di cocco eccetera che quindi vanno anche a riparare le zone rovinate ad esempio del naso e poi questo odore molto balsamico mi aiutava anche con la respirazione quindi ecco per quell'utilizzo ottimo però non è che l'ho mai tipo spalmato sulle gambe per dirvi al massimo qui nel naso eccetera oppure potete accenderla la cera ovviamente brucia diventa un olio e l'olio lo utilizzate per fare i massaggi e c'è una candela da massaggio che è la versione sensuale ecco quella si può utilizzare magari anche per dei massaggi intimi ad esempio intimi nel senso privati non che si possano usare sulle zone intime ecco chiarisco lo so che faresti discorso su youtube magari qualcuna dice di cosa parli però io chiarisco perché insomma è anche capitato parlandone su vanity space cioè ecco sono comunque prodotti da uso esterno questa qua balsamica non la vedo proprio adattissima a un massaggio hot la vedo più adatta a un massaggio io almeno l'ho usata così ad esempio muscolare tipo dopo la palestra magari sentite un po' male l'articolazione avete un po' bisogno di sciogliere e ecco ci sta da utilizzare meglio del meglio è l'arnica che io dovrei avere anche se non ve l'ho citata in questo video perché è un prodotto che uso tutto l'anno io ho l'unguento della saponaria però se non avete particolarmente dolore fisico e volete solamente un pochino sciogliere di stendere le articolazioni muscoli è buona comunque questa qua è una candela a tutto fare buonissima che in inverno è pazzesca perché lavora sulla respirazione nel lavoro e sulle magari contratture muscolari buona ci piace ultimi due prodotti di anthos uno è il fantasticissimo burro di kaitè che ho imparato a utilizzare perché quello di anthos è molto duro cioè durissimo ragazze ve ne avevo parlato in un video non lo apprezzavo particolarmente adesso diciamo che ho imparato a scioglierlo molto molto lentamente con le dita questo qua lo utilizzo per mille cose lo utilizzo anche in estate perché è ottimo per le scottature anche se io in estate raramente mi scotto perché vado raramente al mare e quando ci vado sono sempre super protetta quindi è difficile che io mi scotti proprio magari sono leggermente arrossata però a parte in estate io lo utilizzo soprattutto in inverno perché è ottimo oltre ad essere lenitivo sui rossori è molto rigenerante molto nutriente demoliente quindi assolutamente la notte come impacco alle labbra ma mi capita anche di utilizzarlo su alcune zone del viso o del corpo che sono particolarmente secche una volta quando ero più brava e facevo gli impacchi ai capelli lo utilizzavo anche lì comunque il burro di carité è un prodotto ottimo anche se per caso mi scotto in cucina mi capita di utilizzarlo e infine questo invece è una new enter di questo inverno ma l'ho utilizzato tantissimo vi devo dire anche se non sembrerebbe l'unguento alla propoli che è un prodotto un pochino snobbato diciamo del catalogo di anthos ma in realtà secondo me merita perché anche questo qui è un prodotto mille usi è praticamente olio di mandorle dolci cera d'api aloe e propoli quindi un prodotto assolutamente antibatterico antisettico purificante ma anche lenitivo rigenerante emoliente anche questo qua fa un po' le veci diciamo del burro di carité però potenziato anche questo qui si può utilizzare addirittura anche sui funghi ad esempio se escono dei funghi se frequentate palestre piscine eccetera si può utilizzare come appunto cicatrizzante antisettico eccetera quindi molto molto indicato anche dopo la depilazione io l'ho usato ad esempio sulle gambe dopo essermi depilata oppure appunto anche qui come lenitivo e rigenerante quindi lo utilizzo spesso su tutto il viso tipo come crema viso ne metto poco perché sennò divento una cotoletta empanata ad esempio dopo che faccio il sapone nero di natura siberica che mi manda fuoco ragazze la faccia uso questo qui però se andate sulla scheda tecnica di Anthos trovate tutte le informazioni ah ecco ve lo leggo io è indicato per le pelli secche in presenza di ferite scottature anche sulle scottature l'ho provato ezzemi quindi anche eventualmente psoriazi ezzemi alle mani eccetera funghi prudito e altre irritazioni della pelle poi c'è l'aloe che svolge un'azione idratante e la base di olio di mandorle dolce e cera d'api ha una proprietà emolliente e idratante questo unguento adatto al trattamento di pelli secche avvizzite sì praticamente tutti gli usi che vi ho detto io è fatto così vedete proprio è un unguento se ne preleva un po' e diventa praticamente olio sulla pelle buonissimo profumazione assente praticamente buono 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 veramente anche questo qua secondo me è adatto per i bambini buonissimo bene ragazzi direi che il video può terminare qui ho blaterato abbastanza fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile nonostante sia arrivato a fine inverno però insomma spero vi sia piaciuto lo stesso noi come sempre ci sentiamo al prossimo video e nei commenti ciao ciao